Musica 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 Let's go bitches, sono qui in compagnia di Fluid, Lukeman, omonimo del mio ex compagno di team e virtual enigma Blitz Warhawk, let's go bitches, andiamo Che figo c'è il nome come il mio vecchio compagno di team E lo so perchè non avevo idee ero proprio copiato proprio luca ti chiami luca almeno si si ben chiaro oddio c'è un altro c'è un altro c'è un altro stai attento alla destra andate a fare punto uno mi sta a casa via ma hai one shotato ma hai one shotato vai 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 no no uno è nel loro spawn guarda 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 in porta c'è qualcuno è oddio questa uno è sotto acqua è venuto a cancelletto 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 l'ho aperto ok andate avanti andate avanti rega andate avanti occhio è arrivata una need middle dai continuiamo a pushare pushate 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 raga ma questo è cattivo dai un punto ce l'ho ce l'ho ce l'ho bravo 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 hai fatto bene occhio eh passeranno uno è middle 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 lo prendo lo prendo l'ho ferito l'ho ferito quello middle è ferito vabbè rega non fa niente occhio eh loro passeranno sotto acqua una è sopra casa nostra vai 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 fai gli punto sto avendo pure io io gli faccio punto eh ti guardo 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 c'è lì 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 in camion ho preso oddio punto eh watch out su cancelletto dai torno in difesa io vediamo mamma mia che male sto giocando tranquillo tranquillo rilassati quando giocate è un divertimento deve essere stai tranquillo uno centromappa e questo mi accortella sono due in centromappa come dove 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 forte e poste 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 vedo l'altro ok sono da noi da noi butter uno 可以 shot uno sale da noi one shot one shot uno 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 che li devo fare questo l'ha fatto l'ha fatto io ho fatto io tranquillo provo a passare mido il cancelletto sto guardando dove vanno uno arriva uno dei rivali del cancelletto mi sa non so no no c'è da accompagna centro mappa centro mappa arriva cancelletto vai a fare punto non me ne frega del cazzo di quelli faccio punto faccio punto spero ok cercate quelli che sono in base nostra una a sinistra quello che si tratta continuiamo a fare punto ok a destra un cartelletto cante letto cante letto da del centro ma la cosa blu dai no non cosa la cosa blu oh sono al nostro spawn andate a sinistra quando rinascete a destra uno è sopra camion nostro preso uno in parte al bar dove è dentro al bar e alla strada del bar rispondimi però quando ti chiedo una cosa da davanti era sul bar ma lo avevo preso muore c'è uno al centro non immagini al bizzo e quanto è inutile non urlare non urlare tranquillo guarda dovete giocare dovete giocare tranquilli quando giocate però semmo è impossibile no no eh mo ci fanno punta a manetta se non giocate tranquilli è peggio dovete rilassarvi piano mettiamoci per bene busciamo per bene eh stavendo a sinistra guardo io a destra va eh guarda ha scelto a destra guarda io a destra busciamo busciamo ora 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 no 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 è dietro tank dietro tank lascialo perdere occhio lucca c'era lì sono passato c'è un altro c'è un altro c'è un altro venite venite a fare punto venite io vado da sinistra c'è uno di dal camion e uno nella stradina bravi c'è un altro dentro la casa ammazza quando devi a fare un altro punto l'ultimo e poi gli fanno un altro punto un altro punto mettiti sul punto mettiti erano due comunque eh solinari solinari uno middle al tank bravi bravi va bene così bravi il potente che stiamo vincendo raga no worry be happy io stavo 06 dai raggiungete le posizioni nemiche c'è uno da destra c'è uno da sinistra c'è uno dal centro mi ha preso dietro una macchina oh mio dio c'è uno dal centro è passato da noi è già passato è già passato non dovete tornare non dovete tornare indietro però andate avanti dovete sempre andare avanti se l'uno ti è passato lì mi fai middle middle 1 non so dov'è io sono da loro in poste io sono da loro in poste eh non mi ha dato non mi ha dato lì una destra cioè non mi ha dato l'assistoc una destra allora che non ho fatto un altro one shot vabbè gli pushiamo gli stiamo pushando non l'ho preso l'ho fatto io 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 voglio fare punto voglio fare punto no tu c'hai due lì eh si si sto nascosto io sto nascosto conto uno in mid uno in mid one shot one shot da dove arriva l'ho messo qua faccio punto andate avanti continuiamo così continuiamo così continuiamo così ragazzi let's go baby io sto sopra a casa loro io vado a sinistra attenzione a sinistra preso faccio punto ottimo c'è uno a sinistra c'è un altro a sinistra no io gli sono in poste vediamo un po' uno arriva dal tank uno è a sinistra raga l'ho ferito l'ho ferito l'ho ferito ammazzalo bravo vai pushate pushate ora tre morti tre morti vai continuiamo 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 a pushare dai avanziamo più alti vai 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 così no ce n'è uno al nostro spawn ormai è andato ormai è andato non fa niente dovete contarlo come un morto no ci sto nascosto guarda faccio punto faccio punto cancelletto cancelletto non da sinistra non da sinistra vediamo un po' dai un altro punto io sono da noi eh no non li dovete lasciare però ah ce l'abbiamo ce l'abbiamo il nostro spawn laggiù speso uno bravo dai ora avanti ora avanti ora avanti andiamo 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 occhio virtua ce l'hai lì? no eh è su one shot eh aspetto che mi challenge speso c'è un altro qui ah io ho uno sotto il camion vai ora 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 è il momento di bussare il momento di bussare no c'era uno alla loro macchina guarda il punto preso scocciate un altro ah ma ho scelto ancora oddio ce ne sono tre nel loro spawn fatto io fatto io preso continuiamo così vai raga pushiamo no ce ne sono due favore ce l'hai destra non l'ho preso sto correndo via no mi ha fatto tipo il coso che si gira tutta la visuale da solo tetto c'è un altro tetto c'è un altro riflesso attento vai piano a sinistra no si sei venuto a destra vuol dire che c'è qualcuno a sinistra eh ormai posso eh lo so lo so però te lo dico cioè almeno la prossima volta se ti capita lo sai forse è già da noi mi arrivano ancora stun di qua a me continuano a venire di qua loro ce ne sono due di qua da me uno è chato uno l'ho preso lo ho fatto lo ho fatto c'è uno è passato da noi ormai è passato da noi da america arriva da america vai vai andate 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 avanti se non uno è loro stava già facendo prime questo dai 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 continuiamo così guardate quanti punti gli stiamo a fare c'è li stiamo veramente devastati regà stai guardando in tre la stessa cosa eh siamo rinati di qua no no ve lo dico per voi che state guardando tutti e due la stessa cosa io guardo ho preso un altro ogni kill sono 6.000 punti ma che è oh mi giuro regà ho fatto due kill 6.000 punti arrivano dalla nostra sinistra le ho viste di passare uno investe nel blitz vuole a destra no dai quella destra mi è arrivato un colpo e mi ha shottato madonna vabbè bitches let's go li abbiamo arati veramente in sta partita cioè